Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. In A1 ha segnalato un veicolo in avaria nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla FIPILI fare attenzione per un incidente avvenuto tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Pisa. Sulla Statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Riotorto in direzione Cecina. Sulla Statale 3 Bis Tiberina riduzione di carreggiata per lavori tra Val Savignone e Canili in direzione Ravenna. A Firenze fino a tutta la giornata di domani divieto di transito in piazza Valdelsa per lavori edili. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!